Io ho sempre vissuto per l'imperazione e se necessario morirò per vanno. Io ho sempre vissuto per l'imperazione e se necessario morirò per vanno. Non aspetta a me decidere quando è il momento di vivere quando invece è arrivata l'ora di morire. Ci tieni tanto a finire ammazzato. Silversario! Forza! Maledetto! Non hai alcuna chance con me. Silversario! Prende questo! Prende questo! Qual è il materiale di te? Attala al circolare! Allora hai un po' di paura. Puoi anche risparmiare il fiato. Non soccomberò davanti a un così misero avversario. Perché non stai zitto? Conserva bene! Che vorresti dire? Non esserne tanto sicuro. Vai! Non hai alcuna chance con me. Silversario! Maledetto! E voilà! Assaggia questo! Così, troccia l'inferno! Assaggia questo! Non esatto è il mio Silver Chariot, ma questa volta senza armatura! Non hai alcuna chance. Assaggia questo! Silver Chariot! Maledetto! Il mio Sted con la sua spada è in grado sia di parare sia di tagliare il fuoco. Non hai alcuna chance con me. Silver Chariot! Et voilà! Sono stato colto di sorpresa. Poco fa non dicevi che sopravvalutavo la mia abilità nella scherma? Insidui che io di solito non uso il cervello. Non hai il coraggio di affrontare la morte. Io non mi sono fatto malissimo. Io combatterò finché l'ultimo bretello di carne resterà attaccato al corpo e l'ultima goccia di sangue scorrerà nelle vene. Fight! Silver Chariot! Flip! Et voilà! Time! Oh! Maledetto! Devo portare a fermi nella mia opera. Non è questo a spaventarmi! Vai! Silver Chariot! Maledetto! Sardo! Ma tutto qui è quello che sai fare. Mi deluco! Sai? Silver Chariot! Quale è il carriale di Giorgio? Trattola a circolare! Assaggia questo! Silver Chariot! Assaggia questo! Assaggia questo! Io ho dentro di me l'esperienza di 2000 anni di storia E vi sono comprese anche le tecniche della scuola di Okuto